Cari amici, cari amiche, anche oggi realizziamo questo video per far vedere bene, per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Appunto realizzò il video per far vedere bene l'oggetto per com'è composto. Stiamo parlando di questo misuratore per pressione, sfigmo manometro e questo stetoscopio. Avranno sferiti tutti e due gli oggetti, ovviamente. E niente, vi faccio vedere un pochettino come avviene il tutto. Ma già è sicuramente un oggetto che conoscete. Appunto, questo anche per le persone anziane, ma non solo, per vedere appunto, misurare la pressione. Allora, qui c'è la valvolina di sfiato. Allora, questa per gonfiare viene chiusa. Ecco, vedete? Inizia a gonfiare. Vedete? Per sgonfiare viene svitata questa valvolina. Vedete? E si sgonfia. C'è questa valvolina di sfiato. Vedete? Per gonfiare, si chiude e inizia a gonfiare. Qua abbiamo appunto... Ecco, mettiamo a fuoco. E inizia a gonfiare. Vedete? Ok. Sgonfiamo. Perfetto. E poi abbiamo anche lo stetoscopio. Proprio quello classico per dottori. Vedete? Faccio un primo piano, così si vede bene l'oggetto. Il tutto ha la sua borsettina, la sua custodia, per poterlo riposare. Niente, il tutto viene spedito tramite Corriere SDA, tramite Corriere Nexiv, scusatemi. E in due o tre giorni lavorativi dovete riceverlo. Per qualsiasi informazione mi potete contattare. Questo è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao da Giuseppe.